Fano avrà una nuova scuola media. Assessore Mascarin, che cosa significa questo per la nostra città? Un risultato storico che per l'appunto è il prodotto di un percorso che è iniziato nell'ottubre del 2022 con l'istituzione del tavolo permanente per il dimensionamento scolastico, formato per l'appunto dal comune di Fano e da tutti i dirigenti scolastici della nostra città, che ha prodotto una proposta che è stata poi trasformata in delibera di Consiglio Comunale lo scorso 25 settembre 2023, che alla fine ha trovato in gran parte una risposta positiva da parte della Regione Marche e poi anche una codificazione puntuale dell'ufficio scolastico regionale. Cosa prevede? Prevede una riorganizzazione dell'offerta educativa e quindi anche della dislocazione dei vari plessi scolastici della nostra città, il superamento di due circoli didattici che erano presenti nel nostro territorio, Corridoni, San Lazzaro e Sant'Orso, ma con una riorganizzazione che consente in realtà non solo di non perdere nessuna scuola ma addirittura di avere una nuova scuola media nella nostra città. Qual è la traduzione pratica? La traduzione è che ci saranno quattro istituti comprensivi, Padalino, Nuti, Gandiglio-San Lazzaro, che è quindi la fusione di Gandiglio e Corridoni-San Lazzaro per intenderci, e la trasformazione di Sant'Orso da circolo didattico in istituto comprensivo. Questo cosa vuol dire in particolare? Vuol dire che l'istituto comprensivo di Sant'Orso, che ovviamente riguarda le scuole che sono presenti sul territorio del quartiere di Sant'Orso, di Rosciano, di Bellocchi, di Falcineto, di Cucurano, di Carrara, avrà una nuova scuola media che a partire da settembre 2024 sarà attiva con alcune sezioni all'interno dello stabile che oggi ospita la scuola primaria, la scuola elementare Montesi di Sant'Orso. Perché è un risultato storico? Perché sono vent'anni che a fa non si parla di collocare una scuola media nei quartieri più periferici della nostra città, ma sempre in una logica sostitutiva, cioè si è sempre ragionato di spostare una delle tre scuole media storiche verso altri quartieri. Invece in questo caso il grande risultato è che restano ovviamente i tre istituti storici, quindi la scuola media Nuti, la scuola media Padalino, la scuola media Gandiglio, e se ne aggiunge una quarta che sarà appunto quella di Sant'Orso-Bellocchi, dove peraltro c'è anche una programmazione urbanistica proprio per la costruzione di un nuovo immobile per ospitare la scuola media. Ovviamente questa è una prospettiva di medio periodo, la notizia importante è che tra pochi giorni, quando il 18 di gennaio apriranno le iscrizioni, a Fano ci sarà la possibilità di iscriversi per l'anno scolastico 24-25, non più a tre, ma a ben quattro scuole medie. E questa ovviamente è una bella notizia per tutta la città.